il dipartimento di scienze della salute e biologia ha suscitato il mio interesse mentre siano tutti sul palco portando con sé quello che sembrava essere un sembrava una specie di animale o un mostro abbiamo essenzialmente creato un modello biologico per una nuova specie di animale questa creatura immaginaria è stata modellata sull'arlingtonator che alcuni di voi potrebbero riconoscere come il mio il mito criptico residente di questa scuola ora procederemo con il dipartimento di arti dello spettacolo abbiamo separato il nostro dipartimento in squadre di artisti ogni squadra ha preparato per voi un atto in base alle proprie competenze le mie orecchie non erano pronte per l'enorme quantità di urla che si sono verificate nell'auditorio quando axel è entrato buonasera a tutti io e i miei compagni classe stiamo per mostrarvi che noi nel dipartimento di belle arti crediamo che ci sia un artista dentro ognuno di noi tutti i pezzi sono bellissimi sono molto colpita dalla vostra creatività e il dipartimento successivo era pronto ho visto gli studenti del dipartimento in moda a portare le loro cose cominciarono a srotolare quello che sembrava essere un enorme tappeto ne avevano uno per ciascuno dei corridoi tra le file di sedili dell'auditorio i tappeti erano lunghi spessi e scuri con un pizzico di glitter decorativi ho subito capito che stavano essenzialmente creando una passerella sembrava davvero fantastico in effetti per loro è un po complicato se non fare una sfilata sì no in 20 minuti non puoi cucire assolutamente nulla infatti è impossibile l'unica che in 20 minuti è riuscita a fare qualcosa di strano è barbie magia della moda sì vabbè aveva la bacchetta le fatine glitter plipper e parrapina mettiamola così le wings ci mettono 20 minuti episodi a trasformarsi quindi esatto che più aumentano le fate ad un certo punto aggiungono altre fate ad un certo punto e signori o tagliate corto o l'episodio finisce perché l'episodio di 20 minuti aumentano le tizie che si trasformano ci mettono 3 minuti l'una a camminare è già cagato fuori 7 fate per 3 camminare fa 21 e invece proprio lì il barbatrucco non abbiamo idea per questo episodio cosa facciamo aumentiamo fate che si trasformano anzi inventiamoci il nuovo potere esatto facciamo che c'è lo charmix plus la signora canna e il signor bossi sono scambiati di posto sembrava che la signora canna stesse esaminando l'auditorium per assicurarsi che i suoi studenti stessero seguendo i loro piani ci sono voluti un paio di minuti perché il palco fosse pronto ma una volta fatto gli studenti del dipartimento di moda sono saliti sul palco e lady arlington ha fatto loro un cenno avete già allestito la passerella non vedo l'ora della vostra sfilata in moda potete raccontarci qualcosa prima di iniziare a cara 20 minuti non c'è mai questo ponderato tutto in modo che 20 minuti di gente che camminava e svolazzava in vestiti belli chiaramente i signor responsabili avevano apportato con cuore alcune modifiche alle loro uniformi aggiungendo accessori e tagliando parti dei tessuti e sostituendole con altri colori le loro uniformi erano stupende ma non potevo fare a meno di rabbrivedire ricordando che un pezzo del nostro uniforme può facilmente costare 300 dollari tutto fuori di testa effettivamente puoi aggiungere pezzi ma non taglierei roba giusto perché mi sembra di tagliare le banconote la nostra sfilata di moda è una collaborazione da designer del nostro dipartimento che hanno mostrato più talento durante tutto l'anno che ha appena iniziato esatto ma vabbè ci riferiamo all'anno scorso immagino noi e poi è una collaborazione da designer forse ci sono quelli più talentuosi che li hanno disegnati e gli altri che li hanno creati però in teoria sennò devono crearli tutti sì sennò ci sono dei poveri da gente che non hanno fatto niente sì esatto intanto io comunque il mio dilemma è arrivato sul fatto che non possiamo fare parkour dentro un auditorium quindi alla fine della fine qualsiasi cosa mi hanno fatto gli altri ha più senso di qualsiasi cosa potremmo fare noi perché non ho ancora capito come possiamo fare il circo du soleil dentro un auditorium ma con un movimento del braccio la signora fece cena agli studenti dietro di lei ho visto Nea fare un passo avanti insieme ad altri quattro studenti anche qui una cosa quanti sono in questo cazzo di dipartimento siccome non sono tanti per dipartimento una decina fantastico oggi vedrò alcuni dei disegni di Nea è sempre così riservata riguarda il contenuto del suo album da disegno e te credo glielo rubano sennò probabilmente cioè è presente il mondo e poi non mi sembra una persona che tipo guarda che belli i miei disegni mi sembra proprio poi sai se è un modello di alta moda non è che li sperperi in giro così sì c'è nel senso posso capire che li possa far vedere a lui perché tanto mi immagino che Kelly non chiuda manco i buchi dei calzini se non con la spillatrice però magari penso più a una persona di cui si fida molto tipo Carolina a cui può chiedere un riscontro esatto se no no anche Carolina mi dà l'impressione che Carolina ce la vedo molto come modella barra persona che possa mandare avanti l'industria della moda o qualcosa del genere Nea invece proprio come designer oggi vi presenteremo 5 outfit ognuno dei quali rappresenta uno stile diverso vintage urban casual athletic e formal l'intero reparto ha contribuito a creare i pezzi che avrete a oggi in passarella ognuno aggiungendo un piccolo dettaglio per completare l'outfit ci auguriamo che vi divertirete 5 outfit in un solo giorno sono davvero impressionanti dovete aver lavorato tutti molto duramente che mi sembra che i designer abbiano detto qualcosa di qua allora io ho già questi 5 bozzetti pronti scegli scegliete perché tanto in un giorno non ci inventiamo un vestito ma come mi immagino tutti gli altri ripartimenti anche quello di questa tizia qua dell'Arlington l'economia avranno avuto 16 piani già pronti come compito e li hanno solo letteralmente ricreati sistemati allargati roba del genere però la sostanza alla fine della fiera era quella esatto per favore Amelia lavorare sodo è uno standard normale per i miei studenti però mi fa ridere che lei dica ad Amelia tipo oh è bella guarda che anche i miei studenti lavorano sodo non solo i tuoi io quella è la snobba perché Lady Arlington non è probabilmente vestita con i piedi cioè a me ricorda tantissimo l'outfit che indossa la tizia nel primo film di Jurassic World che è un outfit orrendo a mio parere e poi lei lo usa per correre nella giungla e poi corre dietro a un t-rex quindi sono la più volontà loro ritengo un outfit orrido lei invece cazzo stile lei sì madonna sembra un jedi jedi proprio brutto la parte sopra sembra un vestito a pattinaggio se tu lo allunghi ancora un pochino ci possono fare il pattinaggio sul ghiaccio lei ovviamente è più alta e ci ha messo la gonna e quindi l'ha messo una gonna per darle un tono di seta che perché ha una borsa in mano sta cresta ci abita in questa accademia esatto ma io ho una domanda e se uno fosse un campione di pattinaggio sul ghiaccio? avranno anche quello qua dentro ma probabilmente così noi facciamo il circo du soleil a un certo punto dicono nella nostra presentazione sì grazie alla collaborazione col team di scienze adesso ghiacceremo il pavimento dell'auditorium ecco così possono fare il triplo looks sulle vostre teste state attenti perché i pattini tagliano esatto quindi se qualcuno vuole un taglio di capelli lo dica chi vuole ancora avere le orecchie si abbassi giusto appunto posso dire che in quella scuola mi sembra che tutti ci mettono molto sì uno perché costa due perché sennò li cacciate fuori a pedate tre perché costa che alla fine i soldi sono quello il problema esatto va bene studenti sentitevi liberi di iniziare quando siete pronti con un cenno al team tecnico le luci dell'auditorium hanno iniziato ad abbassarsi e una sorta di musica da passarella ha iniziato a suonare che poi è musica passarella anni 90 quella che ho in mente io quindi figurati ma sì i primi modelli sono usciti dal backstage hanno iniziato a camminare la troupe televisiva li ha seguiti abilmente assicurandosi di riprendere da ogni angolazione sono rimasto subito colpito dallo stile vintage ma non sai neanche che cazzo vuol dire tu sai lo stile da bella grazia sui pantaloni perché prima il sito ti voleva lasciare naked completamente e noi eravamo d'accordo a lasciarti nudo così avevamo meno dati della linea che fa di merda quindi fatte con una ganna oversize e guanti lunghi sembrava decisamente vecchia scuola ma in qualche modo i designer sono riusciti a renderlo moderno utilizzando tessuti specifici e cucendo i materiali in modi non convenzionali le modelle si erano fatte strada a lunghi corridoi dell'auditorium fermandosi professionalmente ad ogni angolo che pensavano fosse il migliore mi sono concesso felicemente di osservare gli outfit da vicino ho notato che molti miei compagni di classe scattavano foto con i loro telefoni ma le modelle mantenevano le loro pose e sembravano completamente indifferenti sono modelle facendo loro lavoro cioè cosa vuol dire da vicino ho potuto vedere che il reparto di moda non solo aveva lavorato per renderli abiti impeccabili ma anche le modelle sembravano così il trucco i capelli erano perfetti che mi sentivo come se stessi sfogliando una rivista perché tu ne hai sfogliate molte le riviste nella tua vita per guardare altre cose in realtà ecco una cosa ci saranno anche modelli maschi però immagino lo scopriremo non lo so io me lo auguro perché non possono esserci solo del donna nel dipartimento di moda sarebbe abbastanza assurdo non credo aver capito quanto potesse essere artisticamente intensa la moda la musica è cambiata in qualcosa di più allegro e poi è arrivato lo stile urban era davvero ben fatto con ogni accessorio chiaramente creato da designer diversi ma in qualche modo si adattava davvero bene i colori usati erano diversi e armoniosi santo cielo quella giacca fa schifo la voglio mi piace concordo lo stesso qui amica devo chiedere a Nea se può convincere quella studentessa di moda a realizzarmi uno personalizzato lo pagherei un sacco di soldi profone non credo che potrei permettermi una giacca del genere ma mi piacerebbe averla anch'io mi piace che Kelly rimane realista però con un tocco di speranza al futuro sono un povero in canna ma potrei farmi amico il design esatto gli stili atletico e casual erano in voga e devo ammettere mi sono completamente innamorata dello stile casual stile atletico ti dovrebbe piacere per partire atletica ti mostra un filamento o un leggings che quando ti pieghi non diventa completamente trasparente o con le strane cuciture su per il culo uno dovrebbe essere contento però forse tu da uomo ti frega una ciospola dei leggings forse bisogna, non lo so, delle mutande contenitiche per quando corri non ne ho più palli di idea anzi vestiti da palestra con integrate l'erbe magique così veramente più sudi più niente più sudore erbe magique perché è quel coso che schifo che collubbio pino silvestre e ascella pelosa Giulio piede sudato aroma di erba tagliata nice sì proprio non fai niente la nausea questa cosa sembrava molto comodo ma super carino wow il materiale su quella maglietta sembra super robusto e aerodinamico e l'hanno provata nella galera del vento Alistair osservava con stupore il modello maschile dello stile atletico ok non ho risposto alla nostra domanda sì anche il fatto che Alistair è molto attratta dal modello maschile vuoi che te lo prenda Al? sì prendigliela vai vai che il paparino che paga vai daddy però che carino sì coraggio amico la maglietta probabilmente vale almeno 500 dollari non posso permettermi di comprarmela ma infatti te lo compra il tuo te la regala sì e dopo vuol dire daddy proprio lui è povero l'altro per i miei soldi quindi esatto ti sei trovato un fidanzatore un fidanzatore aspetta solo 500 dollari vuoi bello? solo 500 dollari ma c'è il rolex d'oro lì al polso sì lo so una persona normale per far su 500 dollari deve lavorare almeno 15 giorni minimo se gli va di culo solo 15 giorni se no anche 20 perché è vero che anche lui è libito all'improvviso la musica è cambiata e le modelle sulla passerella hanno iniziato a tornare indietro oh questo deve essere l'outfit finale mi chiedo come sarà adesso che ci penso non vedo carolina dall'inizio dello showcase eh cianzan ecco riflexo veramente qua dentro adesso entra vestita a maria Antonietta molto formale l'illuminazione dell'auditorium cambiò improvvisamente da un allegro giallo ad una tonalità più scura di blu e sono rimasto a bocca aperta quando ho visto l'ultimo outfit indossato niente meno che da carolina era uno splendido vestito blu nevi con intricati disegni sull'abito alcuni tipi di pietre preziose sparsi ovunque sto immaginando l'abito di Anastasia sì più o meno con la blu che è andata all'opera esatto il secondo strato dell'abito era di un bianco puro ed era così lungo che carolina dovette camminare con altri quattro modelle tenendo l'estremità del vestito dietro di sé indossava anche quello che sembrava essere un piccolo girocolo di diamanti e orecchini abbinati però la tiara anche non c'è mai e poi qualcuno che dice nonna sono io Anastasia l'intero auditorium emette un wow e oh non posso credere che la scuola abbia il budget però qualcosa è così sofisticato spero che il designer responsabile venga notato o qualcosa del genere perché wow forse i diamanti vengono dalla collezione privata di carolina sì esatto carolina era assolutamente stupenda con quel vestito era quasi come se fosse stato fatto per lei e lei lo sapeva a differenza di altre modelle che rimanevano stoiche durante il loro passeggiata potevano notare un piccolo sorriso all'angolo delle sue labbra era fiduciosa nella sua passeggiata e nel divertirsi come non mai non passò molto tempo prima che carolina finisse la sua passeggiata e si ritirasse lasciando che il pubblico concludessi lo spettacolo con un fragoroso applauso i quattro designer sono saliti sul palco e hanno fatto un grazioso inchino insieme il resto le parto e li ha seguiti lavoro fantastico a tutti sono rimasta molto compita da alcuni vestiti che ho visto l'abbiamo portata indietro nel tempo quando ti sapevi vestire vediamo cosa dico i miei cari colleghi Murdoch no lui che cazzo ma che ne sappia lui lui al massimo può dire quello da ginnastica era aerodinamica i tossuti sembrano a volte traspiranti e di alta qualità me lo auguro era quello sportivo no abbiamo deciso di usare puro poliestere un po' di sudame e quando finivamo alla plastica usavamo in sacchiniera del pattugno ovviamente è qualcosa di dire sull'estetica Murdoch oh giusto ebbene si sono tutti molto ben fatti buon lavoro che si può sapere poverino che cosa vuoi che ne sappia cioè dai indosserà tutta la ginnastica tutta la sua esistenza cioè considera che per l'arte ha detto c'erano dei bei colori poverino cioè veramente io per esempio penso che abbiate superato voi stesse gli abiti erano stupendi e l'abito formale era assolutamente etereo personalmente cambierei la tavolezza dei colori dell'outfit vintage per dare un'atmosfera più contemporanea ma era comunque bellissimo avrei modificato la scelta della musica per lo showcase generale ma sono d'accordo avete superato voi stessi studenti cioè è bello perché ha proprio un lauree da musica classica questo qua però ce lo vedrai tantissimo in un gruppo kpop più che in un gruppo io in un gruppo metal al batterista giusto va bene rispondiamo alle domande in pubblico Nabila cazzo è Nabila la professoressa Canna ah ok mi serve di essere mia nonna quando ogni tanto chiama qualcuno quando mi è sbagliato perfetto sentiamo quale magnanza della moda su Armani appari Armadi Armani no si chiamano Armadi qua non è vero Armadi Luigi Louis Vuitton Luigi Volpone Volpone esatto Gubbi al posto di Gucci Gubbi al posto di Chanel e Conel Conel Cacaconell o Cacatonell praticamente Buonso ha vestiti ovvio che avrà fatto qualcosa di figo ha fatto 20 vestiti a sua sorella esatto quella sarei io signore wow sapevo che ne aveva talento ma non avevo mai immaginato che fosse così brava questo spiega la sua crisi di nervi prima nel corridoio si tanto che ce n'è stato uno solo di abiti formali si cagava fuori era fottuta si anche se avrei dovuto prevederlo essendo Carolina la modella e tutto il resto bene signorina considerami impressionata è raro vedere un talento così grezzo vorrei chiederti quanto tempo hai impiegato per progettare questo capolavoro poco visto che non ce l'hanno dato grazie mille per le sue gentili parole devo confessare che avevo questo disegno nel mio quaderno da alcuni mesi ho continuato a riproporlo ma non sono riuscita a centrare il bersaglio il concorso mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per completare il progetto e da lì in poi l'ho semplicemente portato in vita con l'aiuto della mia modella ci sono volute circa otto ore di travaglio in interrotto solo sì infatti cioè io pensavo che tipo oh c'è la competizione abbiamo scelto questo abito bene quante ore mancano 26 bene lavora tutte 26 esatto scoprì che sotto alcuni strati è chiuso effettivamente con la spillatrice non avresti per caso il tuo quaderno da disegno vicino vero? come? te lo proietta così l'antese di camera esatto oh in realtà sì aspetti la mano di Nea si tuffò nella borsa e dopo alcuni secondi di ravanamento la tirò fuori le telecamere si sono affrettate per ottenere una buona angolazione mentre lei apriva l'album da disegno e inizia a sfogliare le pagine e tutte le altre idee che ha avuto via forse in questo caso avrei tipo un attimo aspettato di sapere chi era questa persona prima di no io avrei non davanti al telecamere cercato la pagina poi eccolo oppure anche quello è il modo per dire oh ipotizzaggio a tutti questi modelli esatto l'auditorium era silenzioso mentre l'interlocutore esaminava gli schizzi notevole oh perdonami mi sono completamente dimenticata di presentarmi quindi scommesse armadi o oh cacato cacaconelle oh cacaconelle sì oppure versami posso che è versace va bene versami mi chiamo Nicolai Bersace e sono vicepresidente dello sviluppo presso Versace International canostra e versami sono Nicolai Bersami esatto la mascella di Nea quasi cadde a terra io ringrazio che tu li hai fatti vedere almeno a Bersace e nonna a Tizio Caio del negozio di moda in centro a Canicatti esatto ho appena tenuto l'approvazione da parte del signor Bersace in persona per offrire uno stage ai più illustri tra di voi e volevo farvi le mie personali congratulazioni lo sai vero che sai per perdere quattro designer perché gli viene un infarto contatterò il capo del tuo dipartimento per i dettagli non ti disturberò più del necessario no anche perché se continui la uccidi sul serio sì infatti grazie per questo bellissimo spettacolo la chiamata è terminata e la signora Cana ha risposto ad altre umane del pubblico mentre Nea veniva defibrillata nonostante fossero visibilmente felici per le notizie appena ricevute il dipartimento di moda ha risposto a tutte con facilità hanno terminato la loro vetrina alla grande l'ultimo reparto sta sgombrando il palco preparando la scena per la nostra vetrina è il nostro momento non so se sono pronto non so se sono pronto Grazie.